Salve, di basso sono Moro Simonetti e... sì, è esattamente quello che sembra. Mmh, ok. Ho premuto in basso e che... Non ho capito, non sto parlando niente, ho premuto giù e è arrivato qui. You throw, ok. L. Eh, dove sono andate? Stavo finendo di leggere il tutorial e iniziamo già male. Levetta analogica sopra per andare a sinistra, levetta analogica sotto per andare a destra. Ok, sto letteralmente premendo tutti i tasti, non succede niente. Ok, c'è un tasto. You exited play. Ok, ora ho premuto start. Mette molto ansia questa cosa. Se premo i tasti, non succede niente. Se premo la freccia giù, succede... Questo, di nuovo. Questo video è stato già un progetto fallimentare. Non riesco a giocare. Ok, sono uscito. Ok, mi ha anche sconesso i joypad. Non mi fa fare niente. Solo sound on e off riesco a fare. Neanche sempre, acchiappa il tasto. You exited play. Tra l'altro, bella pixelata questa scritta, mi piace molto. Ok, già mi sta facendo scegliere se è il livello 1 o il livello 2. Siamo al livello 2. Ok, ora mi sta facendo scegliere. Non so perché prima non me l'ha fatto fare, ora mi fa scegliere la palla. Di nuovo non mi fa fare niente. Ho cambiato soltanto che ora sto a Amalfi con un pezzo di mare a destra che manca. Dovrò parlare con il manager delle bocce di questo. Eh, fra. Premo start. Mi fa exitare il play. You exited play. Per questo non voglio neanche sapere che traduzione sbagliata di che lingua è. Ora, la cosa bella è il colore di scelta. È il blu o il rosso? Fammi giocare al parchetto con le panchine. Io penso che le ultime due scritte sotto sono altri due comandi, sono due tasti che probabilmente non ci hanno messo il simboletto per far capire che tasto è. Sto premendo altri tasti, vi giuro, non fa niente. Poi, cioè, ve lo giuro come se chissà che verità io stessi dicendo o che bugia io stessi dicendo. Tipo, per favore, credetemi, è il gioco che non va, non sono io. Più o meno. Allora, questo gioco mi sta facendo chiedere come si può fare il rivolso tramite il Nintendo Switch online? Certo, play device. Gioca dispositivo. Però, visto, tornando un'altra volta... Ah, secondo me ho capito. Ora sto facendo con un solo Joy-Con. Secondo me funziona... E' molto... E' molto più divertente di quello che io credo. Allora, adesso devo arrivare alla fine della questione. Credevo che questo sarebbe stato un video tipo, ah ah ah, io che gioco a boccia per Nintendo Switch. Adesso è Mauro che cerca di capire come cazzo funziona questo gioco. Se funziona. Ok, adesso mi sta continuamente facendo tornare a questa schermata, a quanto pare. Sto iniziando a pensare seriamente allo stato della mia Switch in questo momento. Se non ho installato tipo 700.000 virus. Però in teoria, se il gioco è nello store, dovrebbe essere normale. Giusto. Ok, proviamo a giocare di nuovo con un controller. No. Di nuovo mi dà problemi. Se provo a usare i due controller invece, come se fossero controller singoli. Ok, me lo stai facendo fare. Mi sta facendo anche navigare nel menu normalmente. Novis. Andiamo nel parchetto la sera inquietante. Enchia. Parchetto senza pavimento. Prendiamo la palla nera come la pece. E momenti come questi. Che tigli, davvero. Qual è lo scopo della tua vita? Andiamo nel parchetto sulle Alpi, con parte delle Alpi a destra che mancano. Niente amici, penso che il nostro video si conclude qui e un'ultima prova di... Niente, speravo sarebbe stato un video più emozionante invece, ma voglio indagare più a fondo. Allora, voglio andare più a fondo. Informazioni software. Informazioni importanti. No, vabbè. Questo software è protetto da regi del... Copyright, le cose. Avvisi la proprietà intellettuale. Vabbè, scritto per Nintendo Switch è un blocco. Vabbè, vabbè. Made with Unity. Funzioni di supporto. Bene. Ora sappiamo dove andare. Nintendo eShop. Allora, ora vediamo quello che io volevo comprare. Fisica oltre realistica. Bellissimi scenari e diverse palle con le proprie caratteristiche fanno di bocce. La più realistica simulazione di bocce petank disponibile su shop. Tre livelli AI in modalità giocatori singolo. Modalità locale per due giocatori. Controlli iperintuitivi. Eh? Puntare o sparare. Non ho idea di questa cosa, l'abbiano tradotto. Lancia da seduto o impiegni. Fare pallonetti. Scegli tra sei scenari e sei palle. Molto bene. Per farvi capire, io questo gioco l'ho pagato un euro. In realtà l'avrei pagato tipo quattro euro. Ma avevo tipo tre euro di sconto da punti raccolti precedentemente con il Nintendo. Quindi ho anche bruciato tre euro di sconto per fare questa roba. Ah, vabbè. Non c'è una roba tipo segnala, non so. PixArts. Vediamo che cosa altro ha fatto PixArts. No, in realtà tanta roba. Tutto è merda, sicuro. Vediamo Zombie Apocalypse. Voglio un trailer, voglio un video. Ok, questo già, vedete? Già è molto più... eh? Voglio un video, per favore. Solo questo mi basta. America Wild Hunting. Già promette bene. Galacting invece è una novità, attenzione. Mi sembrano tutti giochi di una certa qualità. Cioè, giochi per cellulare e per N-Gage. Cioè, ho capito che al Nintendo non gliene fotte più di tanto a quanto riguarda degli indie più indie che vanno nel suo store. Però, che sia un minimo giocabile. Ma non dico... Ah no, devono essere tutti belli. Almeno cazzarola. Cioè, sono stato dieci minuti e non ho capito come funzionano i tasti. Un po' perché sono scemo. Però... La significazione per età. Se troveremo qualcosa. Cos'è il peggi? C'è una cultura? Violenza? Sesso? C'è tutto? Niente amici. Penso che siamo arrivati al capolinea. Credevo sarebbe stata una ricerca molto più fruttuosa. Ma forse su internet posso trovare qualcosa. Beh, a quanto pare, questa storia è un continuo. Dopo una ricerca di circa una decina di secondi su internet ho trovato non solo un utente su Reddit che ha lamentato lo stesso problema che ho avuto io, ovvero il fatto che il gioco fosse praticamente ingiocabile e anzi mettevi in guarda gli altri nel dirgli guardate, non comprate questo gioco perché è letteralmente ingiocabile. Ma anche un altro utente di YouTube stavolta, Star of Shovelware, che in particolare ha preso PixArts come riferimento per parlare di quello che a quanto pare è una problematica all'interno del Nintendo Switch Store. Quello che lui chiama asset flip, ovvero il riuso di asset. In che senso? In pratica nel mondo dei videogiochi è abbastanza comune il fatto che tu possa appunto riusare degli asset. Cosa si intende per asset? Qualsiasi cosa in realtà che possa essere un'animazione, un oggetto 3D, una musica, uno sfondo, un'ambientazione e appunto sviluppatori magari indipendenti o anche non indipendenti che magari non hanno i soldi o il tempo di sviluppare, che ne so, un cespuglio, da dei siti possono comprare dei cespugli 3D già modellati, già con le ombre, l'illuminazione eccetera eccetera. Tu puoi appunto pagare questo cespuglio e ovviamente mettendo il credit e tutto nel prodotto finito e poterlo usare. È una cosa normalissima. Nel caso particolare di questo PixArts cosa succede? Che praticamente un numero molto alto dei suoi giochi sono praticamente copie di altri giochi che tu puoi trovare quasi letteralmente pari pari sullo stesso store o esternamente. Questo cosa vuol dire? Che PixArts ha comprato asset di giochi interi che esistono appunto da siti esterni, li ha presi e li ha messi nello store magari cambiando semplicemente nome e lasciandoli così come sono, quindi alcuni anche letteralmente ingiocabili. E a quanto pare è anche una cosa mediamente comune, visto che appunto più sviluppatori diversi pubblicano la stessa versione dello stesso gioco con magari titoli diversi e forse a questo punto ci sono anche dei guadagni dietro un'operazione del genere. Io stesso non so esattamente quali possano essere, visto che questi giochi spesso vengono venduti ecco a 2 o 3 euro, ma per farlo vuol dire che forse una spiegazione dovrà pure esserci. Il creatore del video, Star of Shovelware, si è lamentato di questa cosa, definendola addirittura immorale, visto che è una cosa che inevitabilmente getta merda sugli sviluppatori di giochi indipendenti, che vengono fatti sembrare come ah vabbè sono quelli che comprano i giochi e li mettono pari pari, e così come bisogna anche considerare il fatto che ecco nel Nintendo Switch Online Store, quando ci sono i giochi in offerta, giochi indipendenti e questi giochi diciamo fantoccio vengono messi praticamente alla pari, quindi sono una serie di giochi fantoccio che anche occupano spazio che potrebbe essere più dedicato invece a giochi veri fatti da persone che ci tenevano veramente. E la cosa non è finita qui perché lo sviluppatore di PixArts, che si chiama Benoit Varas, ha risposto sotto questo video dicendo io non ho mai fatto niente di illegale perché io metto sempre il credit a tutti gli sviluppatori da cui prendo gli asset, anzi io faccio lavorare molti giovani da questo punto di vista, io qui vedo soltanto della gelosia, tu vorresti avere il mio lavoro, i miei soldi. Allora il creatore del video gli ha risposto dicendo guarda io non ho mai detto illegale, io ho solo detto immorale, per me non è giusta questa cosa perché una serie di motivi. E questo Benoit Varas rispondo eh ma stai calmo, io ti vedo troppo aggressivo, questa aggressività non va bene, così. Cioè in realtà mi sembravano di quelle discussioni su quei gruppi Facebook tipo chi piange fotte a chi ride, dove condividono roar di Katy Perry dalla mattina alla sera. E infatti poi il creatore del video stesso ha detto vai e la discussione poi è finita, è stata breve ma molto intensa. Chiusi i commenti ma in realtà ho scoperto l'ultimo tassaro di questa storia, ovvero un utente su YouTube che ha pubblicato un video per sbugiardare l'utente di Reddit, visto prima che diceva che il gioco non era giocabile, per dirgli invece guarda il gioco è giocabile e tu non capisci un cazzo. E visto che mi sono sentito preso direttamente in causa da questo utente sconosciuto dell'internet, ora devo provarci anch'io perché che cosa ha fatto lui di diverso? Invece di giocarci al televisore lui ci ha giocato in modalità portatile e quindi è quello che farò in questo esatto momento live, lo proverò davanti a voi ora, con i potenti mezzi che mi ritrovo. E per potenti mezzi cosa intendo? Direi che letteralmente mi mettono davanti alla camera, sono anche decentrato rispetto al microfono, sti cazzi. E quindi no, vaffanculo utente di YouTube Eagles Guy TV perché non funziona neanche in portatile e quindi non sono stupido. In realtà sembra più io che dico a me stesso non sono stupido, piuttosto che io che dico qualcosa a Eagle Guy TV, ma abbiamo capito. Quindi è davvero una cospirazione? No, non particolarmente, perché alla fine è tutto legale e a nessuno sembra mi interessare più di tanto, benché meno alla Nintendo stessa che ha questi giochi in enorme quantità sul suo store. Quindi ho gonfiato un po' il titolo giusto per sperare di avere quelle tre views facili. Si, ma, 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 ma. .